Buongiorno Crotone, dedichiamo questo servizio all'isola ecologica numero 2 della città. Le immagini parlano da sole, tantissimi rifiuti ingombranti che puntualmente vengono lasciati nelle ore notturne. Una situazione di mancanza di rispetto delle regole in un periodo che Crotone dovrebbe essere una città pulita ed ordinata. Chiediamo troppo? È vero, per questi rifiuti non c'è posto all'interno dell'isola ecologica. Il servizio di ritiro è stato affidato ad un'azienda che non è di Crotone e quindi è il comune che deve decidere quando intervenire e far ritirare i rifiuti ingombranti. All'interno gli unici rifiuti che possono essere consegnati e sistemati nei container sono quelli di legno, ma per materassi, televisori, rifiuti come vasche da bagno, divani, poltrone, sedie ed altro non c'è possibilità di ritirarli. E allora cosa facciamo? Li lasciamo in bella vista? Siamo una città autorizzata a non rispettare le regole per l'ambiente? Dobbiamo immaginare Crotone come la città dei rifiuti e dunque una città turistica che ospita invece che turisti e gente che arriva da ogni parte i rifiuti lasciati nelle ore notturne. Come grande amore per Crotone? Come al solito ci ritroviamo in una situazione di disagio. All'isola ecologica numero 1 si arriva a litigare con il personale interno all'area. Qui si lascia tutto di notte, come se essere i furbetti dei rifiuti è un titolo onorifico e alla fine poi ci ritroviamo sempre nelle stesse condizioni. Aggiungiamo che l'amministrazione comunale dovrebbe darsi da fare e trovare una soluzione anche per il ritiro dalle isole di questi ingombranti. Forse si chiede troppo? Ma le tasse non vengono pagate? Il servizio non viene erogato però nel rispetto del rapporto istituzioni cittadini e nel rispetto dell'ambiente. Buongiorno Crotone.